Pronte a partire le opere per la realizzazione della settima vasca della discarica di Bellolampa a Palermo. Domani verranno consegnati i lavori all'Associazione Temporanea di Imprese, formata da Consorzio Stabile Agora Scarle e Cospin SRL di Tre Mestieri Etneo, che si è aggiudicata l'appalto indetto dalla regione siciliana. La gara per un importo a base d'asta di 24,7 milioni di euro è stata assegnata con un ribasso del 33,6% pari a 16,5 milioni di euro. La realizzazione del nuovo impianto è stata finanziata dalla regione tramite il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato all'Energia, con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. L'opera, progettata dalla RAP ha una capacità di stoccaggio di circa un milione di metri cubi, un sistema di raccolta del percolato ed è dotata di un sistema di controllo geotermico e di un monitoraggio ambientale finalizzato a impedire eventuali fenomeni di inquinamento dell'area circostante. Previsto il completamento di una prima parte dell'opera entro quattro mesi, così da poterne consentire l'utilizzo parziale. I lavori dovrebbero terminare entro ulteriori sette mesi. I rifiuti saranno preventivamente trattati nel limitrofo ed esistente impianto per il trattamento meccanico-biologico. Sul progetto hanno espresso il proprio parere favorevole numerosi enti, tra cui il Comune di Palermo, l'ARPA, l'ASP, il Comando dei Vigili del Fuoco, l'Assessorato regionale al territorio ambiente e il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, la Soprintendenza ai Beni Culturali. L'iniziativa rientra tra i progetti dell'ordinanza di protezione civile, emanata il 29 marzo del 2019, per favorire e regolare il subventro della regione siciliana nell'iniziativa finalizzata a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della regione siciliana nel settore dei rifiuti urbani. L'avvio dei lavori a Bellolampo, afferma l'assessore Daniela Bagieri, testimonia l'impegno e l'attenzione del governo musumeci per il sistema dei rifiuti nell'isola. L'implementazione degli impianti rappresenta infatti una condizione necessaria, ma non sufficiente per la gestione del ciclo di smaltimento e la spazzatura. Adesso è il nostro compito monitorare l'iter programmato dei lavori per la realizzazione dell'intervento nei tempi stabiliti. Anche in questo caso la sinergia istituzionale tra diversi enti ha consentito il raggiungimento di un obiettivo importante.